La terza sezione penale della Suprema Corte di Cassazione ha giudicato inammissibile il ricorso proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Egrigento avverso l'ordinanza con la quale la seconda sezione penale dello stesso Tribunale aveva disposto l'immediato dissequesto degli impianti fotovoltaici su serre ubicati in contrada a Monte Narbone, in territorio di Egrigento, gestiti da una società del gruppo imprenditoriale Moncada, nonché dei conti correnti bancari intestati alla stessa società. Il sequestro era stato disposto in via d'urgenza dalla stessa Procura e confermato dal GIP e dal Tribunale di Egrigento inaudita altera parte, ovvero a seguito di un procedimento per il quale il codice di rito non prevede il contraddittorio con gli indagati. Successivamente, il Tribunale di Egrigento, condividendo le tesi degli avvocati Marco Giglio e Gabriele Giglio, difensori di Salvatore e Stefano Moncada, accoglieva l'istanza di riesame proposta agli stessi, avendo ravvisato la carenza del fumus commissi delicti in relazione ai reati di lottizzazione abusiva e truffa gravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche fondanti la misura cautelare. Relativamente al reato di lottizzazione abusiva contestato dalla Procura della Repubblica, il Tribunale di Egrigento fugava ogni dubbio in ordine alla saluta buona fede e correttezza dell'operato del gruppo Moncada, chiarendo come l'iter amministrativo riguardo l'impianto di sequestrato fosse stato affrontato con prudenza dalla Moncada Energy Group, la quale, lungi dall'avviare con l'immediatezza i lavori di cui è la progettazione depositata presso l'ente locale e oggetto della concessione numero 85 2009, con prontezza chiedeva l'UMI al Dipartimento regionale Industria, il quale, dopo qualche tempo, rassegnava le proprie considerazioni in ordine alla correttezza della procedura amministrativa seguita dal Comune. Appare significativo che ad emettere il parere sia stato un organo diverso da quello che aveva appena autorizzato la realizzazione delle opere, nonché lo stesso ufficio competente per l'istruzione delle istanze di autorizzazione regionale e non si vede come in quel momento, a fronte della netta posizione assunta dall'assessorato, gli istanti potessero anche solo dubitare della liceità della propria azione. Avendo avuto riguardo al reato di truffa aggravata al GSA ipotizzato alla procura in relazione alla presunta mancata coltivazione delle serre fotovoltaiche e finalizzato sempre secondo il PM all'indebita percezione delle triffe incentivanti, il Tribunale di Agrigento, condividendo le tesi difensive degli avvocati Marco e Gabriele Giglio innanzi a tali considerazioni non può certo ritenersi fittizia l'attività agricola posta in essere al gruppo Moncada presso le serre di Monte Narbone e pertanto non possono ravvisarsi nella condotta degli indagati gli indizi di artifici e raggiri descritti nel capo di imputazione né in quel mutamento di destinazione e di uso descritto nella fattispecie incriminatrice di cui è l'articolo 44, ovvero l'ottizzazione abusiva. Alla luce di queste considerazioni del pari inconsistenti venivano ritenute le accuse rivolte al progettista e direttore di lavori dell'impianto di serre Narbone, l'ingegnere Girolamo Caruso. La procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento proponeva così ricorso per Cassazione avverso la pena ordinanza di dissequestro. Da ultimo, con ordinanza resa a seguito dell'udienza camerale che si è celebrata il 29 ottobre scorso, la terza sezione della Suprema Corte di Cassazione, accogliendo le richieste in tal senso formulate del difensore del gruppo Moncada, gli avvocati Marco e Gabriele Giglio, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dal Pubblico Ministero di Agrigento. Risulta pertanto confermata l'ordinanza resa dal Tribunale di Agrigento in sede di riesame, a mezzo della quale i giudici della seconda sezione penale avevano giudicato prive di fondatezza le ipotesi accusatorie avanzate dalla procura. La trasparenza ed incensurabilità dell'operato del gruppo Moncada emerge altresì dalla circostanza che all'udienza il 29 ottobre scorso lo stesso procuratore generale presso la Suprema Corte ha concluso per il rigetto del gravarne proposto dalla Procura della Repubblica di Agrigento, aderendo quindi alle richieste in tal senso formulate dai difensori di Salvatore e Stefano Moncada.